Perché così tanta gente cerca il proprio confirmation bias in te? O immagino qualunque altro sconosciuto stimato che va in live? O anche perché così tanta gente cerca gratificazioni sulla propria situazione e o decisioni prese prendendoli sotto forma di domanda? Come pensi di svincolarti nella tua missione divulgativa dalla trappola del fornire le tue opinioni rispetto a fornire gli strumenti per potersi fare una propria opinione? Bellissima, bellissima domanda, bellissima domanda. Bellissima, bellissima. E ci rifletto, voglio proprio stamparmi questa cosa qui e rispondere. Oggettivamente questo qui è tra le mie mission. Non voglio diventare quello che vi dà opinioni a cui dovete credere. Ah, Rip ha detto, ma quello che vi aiuta a pensare con la propria testa. Ad esempio la live dell'altro ieri credo sia stata quantomeno impostata su questa tematica qua. Cioè vi ho fatto vedere il mio percorso, il mio percorso che utilizzo per giudicare una notizia. Poi ci ho messo il mio giudizio sulla notizia dell'AI di Google, senza niente. Però il core è appunto il come faccio a cercare, cosa faccio per cercare una notizia, informazioni e così via. Solo che è inevitabile che la gente a un certo punto ti prende come mentore, come quello che ne sa a pacchi, e quindi si prende per buona un tuo giudizio. Sapete che io, poi ultimamente, specialmente ultimamente, in cui non ho tempo di mettermi lì a leggere, a formarmi, a farmi opinioni ben formate, penso che ultimamente dico solo cazzate. Quindi in realtà dico cose molto di getto. Ho fatto anche un piccolo clip apposta sulle responsabilità che mi sento quando dico un'affermazione. Molte le potrò smentire fra un po', potrà risultare che ho detto un sacco di cazzate, e ci sta. Non mi aggrappa le mie opinioni. Questa forse è uno dei miei pochi superpoteri, ogni tanto ne dico qualcuno, quindi penso che sono parecchi, è che cerco di non essere molto aggrappato alle mie opinioni. Perché se vi fermate un attimo e provate a immaginare, si ma cosa, quale delle mie opinioni oggi è così evergreen che fra mille anni è ancora vera? Quale delle mie credenze sicure? No, questo sicuramente è così, ma pure fra cento anni è ancora vera. Pensate alla vita di Giulio Cesare, quante delle cose che credeva lui, ma secondo me il vereno si cura con tre preghiere, oppure la terra è piatta, questa popolazione è inferiore, tutto quello che credeva chiunque cent'anni fa, duecent'anni fa, il 99% poi si sono rivelate puttanate, per cui sono convinto che tutte le opinioni che ho, ma tutte, da qui hanno tutta una scadenza, quindi perché aggrapparcene così tanto? Non sono così aggrappato alle mie opinioni.